Buonasera, questa video-lezione è la prima di un ciclo di tre video-lezioni che vogliono concentrarsi sulle ottave dalla 50 alla 69 del canto dodicesimo della Gerusalemme liberata. È un episodio molto importante, ve l'ho già accennato, e è il duello fra Tancredi e Clorinda. Chi sono questi due personaggi? Tancredi è un principe cristiano, dunque è un crociato, Clorinda è invece una valorosissima guerriera musulmana a difesa di Gerusalemme. Tancredi ha ammirato le bellezze di Clorinda, oltre a essere valorosa e bellissima, mentre faceva il bagno e si è prontamente innamorato. Clorinda però non si innamora, non bada agli uomini, bada solo alla guerra. Questo per quanto riguarda i due personaggi. Naturalmente dietro i due personaggi, secondo la poetica tassiana, c'è un errore di fondo. Tancredi da una parte è traviato dal sentimento amoroso, e questo sappiamo che è un'esperienza che lo porta distante da quello che è il suo dovere, vale a dire essere un guerriero cristiano. Clorinda è naturalmente musulmana, dunque dal punto di vista del tasso combatte dalla parte sbagliata. Clorinda, abbiamo detto, è la più valorosa dell'esercito musulmano, e decide dunque in un momento disperato per l'esercito di Gerusalemme di tentare un'azione ardita, vale a dire di uscire dalle porte di Gerusalemme la notte, dunque un'azione, un'incursione notturna, e incendiare la macchina d'assedio, la torre d'assedio che i crociati avevano costruito e che dava filo da torcere ai difensori. L'azione riesce, riescono a incendiare la torre, e riescono a uccidere il drappello a guardia, il drappello cristiano a guardia della torre. E siamo a questo punto. Ma poi che intiepidì la mentirata, nel sangue del nemico in sé rivenne, vide chiuse le porte intorniata sei dai nemici, e morta l'orsitenne, pur, veggendo qualcuno in lei non guata, novarte di salvarsi le sovenne, di l'orgente si infinge fra gli ignoti, Cheta s'avvolge e non è chi la noti. Clorinda, mentre uccideva il drappello cristiano a guardia della torre, si distrae. Non si rende conto che è stata chiusa fuori da Gerusalemme, e dunque, poiché intiepidì la mente irata, dopo che si calmò, si calmò dopo aver compiuto strage di cristiani, e in sé rivenne, dunque ritornò in sé, vide chiuse le porte intorniata sei dai nemici, si vide che le porte di Gerusalemme erano state chiuse e che lei era circondata dai nemici, e morta l'orsitenne, e allora capì che per lei era giunta l'ultima ora. Pur, veggendo qualcuno in lei non guata, novarte di salvarsi le sovenne, però si rende conto di una cosa, che alcun in lei non guata, nessuno la nota, è buio, nessuno riesce a capire, e allora novarte di salvarsi le sovenne, le venne in mente un nuovo modo per salvarsi. Qual è questo nuovo modo di salvarsi? Mimetizzarsi. Di loro gente si infinge, finge di far parte del loro esercito, e fra gli ignoti Cheta si avvolge, e si circola con grande calma fra i soldati ignoti, e non è chi la noti, e questo suo trucco, cioè fingersi dell'esercito cristiano, sulle prime ha successo. Poi, come lupo tacito si imbosca, dopo occulto misfatto e si desvia, dalla confusione, dall'aura fosca favorita e nascosa, è la sengia. Poi, una volta che è riuscita a fingersi dell'esercito cristiano, la similitudine è come un lupo tacito che si imbosca, dopo che il lupo ha fatto strage di armenti, si imbosca, cioè ritorna nella sua tanna nel bosco, benissimo, favorita dalla confusione e dall'aura fosca, cioè favorita dalla confusione e che si scatena attorno alla torre d'assedio incendiata, e dall'aura fosca, vale a dire dal buio, nascosa in la sengia, cioè si stava allontanando, favorita da questi due elementi, la confusione e il buio. Solo Tancredi avviene che lei conosca, però Tancredi è lì, attento, e vede questo guerriero. Egli qui vi è sorgiunto alquanto pria, perché? Perché Tancredi è arrivato prima di tutti gli altri guerrieri cristiani, vi giunse all'orchessa Arimone uccise, vide segnòla e dietro a lei si mise. Tancredi ha visto che lei aveva ucciso un guerriero cristiano in particolare, e Arimone, e a quel punto aveva deciso di, l'aveva vista, l'aveva assegnata, ne aveva tenuto conto se l'era impressa nella memoria, e l'aveva inseguita, cioè vuole vendicare il compagno morto. Attenzione che Tancredi si sta avviando a passi speriti verso quello che è l'akmè, l'apice del suo dramma. Perché? Vuol nell'armi provarla, vuole scontrarsi con lei, con le armi, vuole fare un duello con lei. Perché? Due punti. Un uomo la stima, degno a cui sua virtù si paragone. pensa che sia un uomo, d'altra parte Clorinda è vestita di tutto punto, armata di tutto punto, ha l'armatura, non riesce a distinguerla da un uomo. Un uomo la stima, la stima la crede un guerriero degno, a cui paragonare, a cui opporre il suo valore. Va girando con lei l'alpestre cima verso altra porta, ove d'entrar dispone. Segue egli impetuoso. Clorinda decide di non entrare dalla porta principale di Gerusalemme, per cui va girando l'alpestre cima. Circonda Gerusalemme che sorge su un colle, per cui l'alpestre cima va girando, va percorrendo l'alpestre cima. Verso altra porta, verso, diremo noi, una porta sul retro, ove d'entrar dispone, dove vuole entrare. segue egli impetuoso. Allora, lei a piedi, si incammina per entrare da una porta su un altro lato di Gerusalemme, segue, lui è a cavallo, segue egli impetuoso, la segue a sprombattuto. Onde assai prima che giunga, in guisa vien che darmi suone, che la si volge e grida. Per cui, molto prima che ella giunga alla porta desiderata, avvien che darmi suone, che la si volge. avviene che Tancredi produca un rumore di galoppo e d'armatura al galoppo e di conseguenza Clorinda si accorge di lui e si gira. Ella si volge e grida. La domanda è, o tu che porte che corri sì? Tu che stai correndo così velocemente, perché vieni? Che cosa porti che porti? Tancredi risponde, guerra e morte, cioè sono qui per scontrarmi con te e per ucciderti. guerra e morte. Nell'ottava successiva Clorinda risponde, risponde per le rime, guerra e morte avrai. Bene, vieni qui. Disse, io non rifiuto darla ti se la cerchi, se la cerchi è una battuta, la la risposta di Clorinda è ironica, è arrogante. Bene, cosa porti? Guerra e morte. Bene, se la cerchi te la do. Bene, io non rifiuto darla ti se la cerchi, se la cerchi non mi rifiuto assolutamente di dartela. E ferma, attende. Non vuol Tancredi che Pedon veduto al suo nemico usare cavallo e scende. Tancredi è, oltre a un valorosissimo guerriero, è anche un guerriero particolarmente rifinito e attento ai dettami della cavalleria, ha visto il suo nemico, quello che lui reputa, quello che gli reputa il suo nemico a piedi e decide di scontrarsi con lui, non a cavallo, dunque non approfittando di un vantaggio, ma decide di scontrarsi con lui a piedi. E impugna l'uno e l'altro il ferro acuto e aguzza l'orgoglio e li riaccende. Entrambi impugnano la spada, dunque l'arma del combattimento, non è la lancia, non è la lancia né l'asta, l'arma del combattimento a cavallo, è proprio la spada, l'arma del combattimento corpo a corpo, Cominus in latino. L'uno e l'altro impugnano il ferro acuto, aguzza l'orgoglio, tutti e due si accendono, diremmo noi, sono in preda all'adrenalina e li riaccende e ognuno si concentra sul suo sentimento di rabbia, lei per essere stata scoperta, lui perché sta vendicando un comilitone morto e vansi a ritrovare non altrimenti che due tori gelosi e dirardenti. Lo scontro fra i due è violentissimo perché si scontrano, la similitudine è con due tori che vanno a scontrarsi per, nella stagione degli amori, per il possesso della femmina. Degne di un chiaro sol, degne di un pieno teatro, opressa riansi memorande, notte che nel profondo oscuro seno chiudesti e nell'oblio fatto si grande, piaceti che io ne le traga e in bel sereno le future età lo spieghi e mande, viva la fama loro e tra loro gloria, splenda del fosco tuo, l'alta memoria. l'ottava 54 è un'ottava importante perché tasso si rivolge direttamente alla notte perché dice degne di un chiaro sol, degne di un pieno teatro, opressa riansi memorande. Il duello è stato talmente memorando, talmente memorabile, che sarebbe stato degno di un chiaro sol, cioè sarebbe stato meglio che questo duello avvenisse di giorno, non di notte, perché sarebbero imprese degne di un pieno teatro, cioè è stata un'impresa talmente incredibile che doveva essere vista da tutti e allora si rivolge alla notte, notte che nel profondo oscuro seno chiudesti e nell'oblio fatto si grande, notte che hai rinchiuso tutte queste opere, tutte queste imprese nel tuo oscuro seno, cioè le hai rese invisibili a tutti e nell'oblio e nella dimenticanza. Piacciati che io nel tragga, fa sì che io prenda questo duello e lo mostri ai lettori e in bel sereno alle future età lo spieghi e mande e di modo che lo possa tramandare ai posteri. Viva la fama loro e tra loro gloria splenda del fosco tuo l'alta memoria. Viva la fama loro, la fama loro risulti mortale e tra loro gloria dato che questo duello è degno di tanta gloria, venga ricordata anche la tua tenebra. Guardate l'opposizione splenda del fosco tuo e l'alta memoria. Splenda l'alta memoria, cioè la memoria conservata dalla tua tenebra. Splenda la memoria della tua tenebra. Splendere e tenebra. Due vocaboli contrari associati. naturalmente l'ottava 54 vi rendete conto è fondamentale perché perché naturalmente Tasso sta per due motivi. In primo luogo sta inventando un episodio. È un episodio di invenzione. Ricordiamoci il proemio io aggiungo episodi di invenzione alla verità storica per allettare il lettore perché il lettore non si annoi. E dunque è indicativo che questo fatto avvenga di notte quando nessuno l'ha visto perché il poeta può con più semplicità e meno diciamo così problemi poetici inventare questi episodi. Nessuno l'ha visto dunque potrebbe essere avvenuto. Il secondo motivo per cui l'apostrofe alla notte è significativa è che stiamo parlando di due guerrieri che si stanno scontrando ma che in realtà sono un uomo e una donna e uno l'uomo è innamorato della donna e dunque c'è diciamo così un cambiamento per quanto riguarda la notte. La notte gli innamorati solitamente si amano costoro invece sono condotti dal loro errore a odiarsi e a combattersi. la notte la notte è innamorato